Desta a profondo allarme la risposta dell'onorevole Luciano D'Alfonso al comunicato di questa giunta distrettuale. Lo fa sapere in una nota l'Associazione Nazionale Magistrati d'Abruzzo, dopo la discussione che ha coinvolto il pubblico ministero della Procura di Pescara, Andrea Di Giovanni, al centro delle polemiche esternate dal deputato del Partito Democratico. Quello che sgomenta è che un deputato strumentalizzi e abbia condotte aggressive dirette all'attacco violento e lesivo della dignità del magistrato. Definito con epiteti altamente offensivi della sua persona e del ruolo che svolge, scrive nella sua replica l'Associazione Nazionale Magistrati. Il rispetto delle prerogative di ciascun potere dello Stato è necessario per restituire al cittadino l'immagine corretta del funzionamento dello Stato di diritto, della divisione dei poteri, della legalità, della indipendenza e imparzialità del magistrato e per l'effettiva salvaguardia e tutela del diritto dei singoli, sostiene l'Associazione. L'accusa ai magistrati di agire per fini estranei e la funzione giurisdizionale delegittima la funzione e il ruolo della magistratura in uno Stato di diritto, che la corretta dialettica tra i poteri dello Stato dovrebbe, invece, preservare, conclude la nota dell'Associazione dei Magistrati Abruzzesi. L'Associazione dei Magistrati